Musica Caserta si prepara ad ospitare un'altra bella grande iniziativa di arte, la prima biennale d'arte del Belvedere di San Leocio. Sindaco, Caserta è sempre di più una città di cultura? Sì, coniugare quello che è il nostro grande patrimonio UNESCO, quindi la storia, l'arte con quello che invece è il futuro dell'arte, l'arte contemporanea ma anche i grandi artisti penso che sia la prospettiva in cui dobbiamo lavorare per portare economia al nostro territorio, per portare crescita anche sociale dobbiamo portare grandi eventi, grandi artisti, grande turismo e soprattutto le occasioni per le future generazioni. Musica